Rallento a moto dritta, postura, corpo interno, moto esterna e qua abbiamo una sequenza Benvenuti su Motocicletta Team in un'avventura chiamata motociclismo la playlist che parla dei fondamentali del motociclismo fino ad arrivare alle tecniche un po' più sopraffine, un po' più da professionisti io sono Daniele, dietro la telecamera c'è Antonio, buonasera Antonio e se lo vedono di mattina questo video buongiorno in questa quinta puntata parleremo delle curve, se siete capitati in questa playlist, in questo video per caso andate a vedere gli altri video così da capire di cosa stiamo parlando voglio farlo in maniera semplice quindi oggi parleremo delle due tecniche fondamentali, la tecnica di destrezza e la tecnica dinamica sono quelle tecniche che ci permetteranno di affrontare qualsiasi tipo di curva, addirittura anche su qualsiasi fondo sono due tecniche che si possono combinare insieme ma iniziamo a spiegare nel dettaglio queste due tecniche la tecnica in destrezza o di destrezza o la tecnica induristica come molti la chiamano probabilmente deriva proprio dalla guida in fuoristrada questo perché ci servirà quando le curve saranno più strette oppure dissestate quando affronteremo delle inversioni a U molto strette, dei tornanti, delle rotatorie o quando in città ci muoveremo nel traffico quindi per evitare che la moto ci dia quella sensazione di pesantezza quando ci spostiamo verso l'interno curva quindi che ci cade verso l'interno c'è una tecnica ben precisa da saper fare moto interna e corpo esterno in qualche vecchio video ne ho già parlato soprattutto per quanto riguarda i tornanti questo perché non si svilupperà molta forza centrifuga così da tenere sulla moto ma si svilupperà invece una forza che ci attrae verso il basso quindi basterà veramente un piccolo sbilanciamento verso l'interno della curva che la moto tenderà tra virgolette a cadere ecco perché questa tecnica di destrezza quando devo affrontare una curva stretta oppure un tornante, una rotatoria quando insomma stiamo andando piano moto interna e corpo esterno così da avere stabilità sulla moto e controllo così se ci dovesse essere dello scivoloso, del bagnato, della breccia avremo controllo ma allo stesso modo se dobbiamo rallentare o addirittura fermarci tutto un tratto perché la macchina davanti a noi si è fermata con questa tecnica avremo stabilità quindi avremo più controllo se ci dobbiamo fermare la moto sarà stabile possiamo quindi fermarci anche in maniera molto repentina la tecnica dinamica è quando si alza un pochettino più la velocità individuiamo la nostra curva arriviamo lanciati, arriviamo un po' più veloci rispetto al solito corpo interno alla curva è la moto che ci segue di conseguenza questo perché ci sarà forza centrifuga che ci spingerà verso l'esterno più piego la moto più la superficie delle gomme diminuisce quindi un piccolo cambio di terreno, un po' di sporco o un'incertezza anche da parte nostra potrebbe far perdere stabilità alla moto ecco perché sono io che devo entrare con il corpo all'interno della curva e la moto mi seguirà di conseguenza si piegherà quanto serve così da avere più grip sulle gomme Antonio vuoi avvicinarti un attimo alla gomma che faccio un piccolo esempio pratico per cosa intendo? normalmente quando procediamo la moto, la superficie d'appoggio della gomma è questa più andiamo a piegare quindi si piega più questa superficie va a diminuire, diminuire, diminuire quindi la superficie d'appoggio della gomma diminuisce ecco perché devo entrare io con il corpo in curva e la moto deve seguirmi di conseguenza in maniera tale da avere quanta più superficie d'appoggio sulla gomma oltre ad avere una buona superficie d'appoggio sulla gomma forcelle e mono lavorano meglio se dobbiamo rallentare in curva e questo è un discorso che faremo più avanti avremo la possibilità di farlo proprio perché la moto sarà più stabile se siamo in montagna troviamo un po' di breccia oppure quel rigoletto d'acqua fastidioso con la giusta tecnica riusciremo ad affrontare questa sporcizia, questo ostacolo senza problemi e se la moto dovesse perdere di aderenza sarà una perdita di aderenza più controllata rispetto ad avere una tecnica sbagliata come tecnica sbagliata normalmente è quella di guidare in asse io rimango in asse con la moto avrò poco feeling, poco controllo della moto tutto il peso rimarrà centrale se la curva sarà stretta la moto si piegherà molto insieme a me di conseguenza il feedback del terreno sarà repentino non avremo quel tempo di controllo se la moto dovesse scivolare, perdere aderenza sarà una cosa repentina abbiamo scelto questa location perché c'è un asfalto nuovo, pulito quindi vi consiglio per te che stai iniziando di trovare una situazione del genere con poco traffico magari fate aiutare da un amico così da vedere se ci sono macchine ma soprattutto quando facciamo queste prove tutto abbigliamento di sicurezza e manteniamo regolare la velocità teniamo sotto controllo la velocità, non azzardiamo mai in questa situazione abbiamo una serie di curve adesso vi farò vedere nell'atto pratico che cosa intendo e che cosa intendo anche per combinare le due tecniche anticipo con la velocità, scalo se serve, sguardo in traiettoria e postura in questo caso è dinamica, corpo interno e moto che mi segue di conseguenza rifacciamo con la dinamica regalo la velocità in anticipo, sguardo nella mia traiettoria, postura e affronto la curva decelero prima, sguardo e vado freno a moto dritta, sguardo, corpo interno moto esterna e vado adesso ti faccio vedere la tecnica di destrezza uguale, anticipo, moto interno e corpo esterno rallento a moto dritta, sguardo, postura, moto interno e corpo esterno rallento a moto dritta, sguardo, moto interno e corpo esterno rallento a moto dritta, sguardo, moto interno e corpo esterno dinamica 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 abbiamo visto le due tecniche dinamica e destrezza qua abbiamo una s veloce repentina una curva dietro l'altra dove possiamo far vedere questa s una dietro l'altra dove possiamo far vedere come mischiare le due tecniche sia perché magari abbiamo più velocità entriamo in dinamica rimaniamo col corpo in dinamica appena finiamo la nostra curva a destra abbiamo subito questa sinistra quindi corpo rimane fermo nuovo solo la moto se invece non abbiamo due curve consecutive strette ma abbiamo della sporcizia come potrebbe essere ogni tanto quasi come siamo attaccati alla campagna c'è un po di terra qualche sassolino o degli aghi di pino quindi potrebbe essere che in percorrenza magari l'abbiamo reputata una curva veloce quindi siamo in dinamica ci troviamo a dover affrontare un po di sporcizia da dinamica diventa destrezza perché abbiamo il tempo di rallentare proprio grazie alla postura rallentiamo e affrontiamo la sporcizia di nuovo vi faccio vedere nel lato pratico arrivo in dinamica rimango col corpo in dinamica e affronto la curva in destrezza vediamo se riesco a farlo rivedere al contrario dinamica rimango con il corpo in dinamica destrezza trovo il viscito mi posso spostare oppure arrivo in destrezza rimango con il corpo in destrezza e dinamica destrezza rimango con il corpo dinamica destrezza trovo il viscito mi posso spostare destrezza e diventa dinamica ciak 35 come dico sempre va bene guardare i video però mi raccomando partecipate ai corsi ricopiare queste tecniche dal video ci si potrebbe portare dietro qualche errore se non c'è un istruttore dall'esterno che vi vede vi dice per bene che cosa fare correggere eventuali errori e farvi migliorare con la tecnica quindi ok video se siete interessate ai corsi i miei contatti sapete dove sono sono in descrizione potete contattarmi potete raggiungermi qua in puglia lecce per fare i corsi oppure possiamo venire noi da voi stiamo facendo il gruppo per la sicilia stiamo cercando un gruppo per napoli qualcuno mi ha chiamato quindi vogliamo formare un gruppettino e se siamo tanti sapete possiamo dividerlo in più giorni non voglio fare grossi gruppi ma voglio che il corso sia ben concentrato in quei pochi ma buoni quindi piuttosto lo dividiamo in qualche giorno e stiamo organizzando ovviamente di nuovo la Lombardia e il Piemonte allora parliamo un po' della postura abbiamo visto un po' la dinamica e ne abbiamo parlato parliamo un po' della postura magari Antonio segui un po' i movimenti come sempre dobbiamo anticipare la manovra la curva non si affronta in percorrenza ma si affronta in anticipo mi regolo con lo sguardo cerco di capire dove è il punto di frenata rallento scalomarcia parleremo più avanti di una tecnica che è il trail braking cioè frenare in ingresso di curva entrare in curva leggermente pinzati in breve a che cosa serve quando noi affrontiamo la curva la moto si appesantisce sull'asfalto quindi quando vado a rilasciare i freni la moto ritorna con le sue forcelle con il mono ammortizzatore quindi potrebbe darci uno scarto potrebbe farci perdere la precisione della nostra traiettoria il trail braking ovviamente con la postura precisa giusta non è nient'altro che rallento ricordiamo la potenza frenante è sul freno anteriore bilancio con il posteriore quindi arrivo in curva entro in curva leggermente pinzato una volta che ho iniziato a percorrere la curva rilascerò il freno anteriore e per ultimo mi lascio il freno posteriore come timone questo perché quando sono entrato in curva la moto si è appesantita sto frenando la moto è già compressa sui suoi ammortizzatori quando rilascerò il freno ovviamente tutto molto dolcemente la moto non ritornerà in maniera repentina così da farci perdere un attimo la nostra traiettoria ma ritornerà in maniera più controllata quindi rimaniamo precisi sulla nostra traiettoria piccola parentesi sul trail braking andremo a vederlo in un prossimo video postura mi raccomando ne ho già parlato in un video precedente quindi andate a vedere di che cosa sto parlando in curva come avrete notato io ho esagerato molto i movimenti così da farlo vedere ovviamente in base alla condizione il movimento può essere anche impercettibile pur che ci sia più la curva è veloce o è stretta o è sporca che sia in dinamica o che sia in destrezza più questi movimenti dobbiamo accentuarli avrete notato che i gomiti sono molto alti così da evitare o meglio così da permettere questo movimento da avere più spazio e da mantenersi in asse con l'avambraccio e il polso perché quando mi avvicino Antonio fammi vedere per favore questa visuale del polso quando mi avvicino con il polso si tende a piegarlo quindi io non lo devo piegare alzo il gomito quindi rimane in asse quindi questa torsione va bene questa torsione non va bene quindi se mi trovo in questa condizione alzo e rimane in asse che sia dinamica o che sia destrezza una volta comandato la marcia quindi una volta usati i comandi con i piedi quindi scalo, metto a posto la curva l'affronto così non siamo in pista quindi contatto sulla moto stessa cosa sul freno una volta che ho frenato lasciamo mi raccomando in questo caso due dita al massimo sui freni se serve anche con il piede una volta che abbiamo frenato se ci sono una serie di curve possiamo mantenere il piede pronto a dover pelare eventualmente sul posteriore qualora ci servisse a regolarci un attimino sulla curva quindi se io premo con l'anteriore la moto tende a raddrizzare se io premo col posteriore la moto chiuderà la nostra traiettoria c'è tantissimo da parlare questo è un argomento assolutamente da corso perché se no uscirebbe un video veramente lungo e si creerebbe anche tanta confusione e non voglio posizione sulla sella ovviamente bella centrata mi raccomando quando ci sediamo non stiamo appiccicati non stiamo lontani ma centriamoci e quando ci dobbiamo spostare spostiamo a partire dal bacino pressione sulle gambe spostiamo il bacino ok? ragazzi io spero che sia chiaro che questo video sia piaciuto quindi lasciate like ma soprattutto lasciate i commenti così ci facciamo la nostra bella chiacchierata nei commenti Antonio grazie per aver tenuto la telecamera oggi mi sono alquanto annoiato perché lui non vuole venire in moto vuole venire da passeggero e quindi se no le prove le farebbe lui ok c'è altro da dire Antonio ho dimenticato qualcosa? no iscrivetevi, commentate, lasciate like chiamatemi, fate i corsi facciamo i corsi e ci divertiamo soprattutto ci divertiamo durante i corsi si imparano cose nuove e ci divertiamo grazie ciao e gas brillante ci vediamo al prossimo video